Enrico Colavita, candidato PD al Senato. Oggi siamo nel centro storico di Isernia. Come si fa a portare la storia e la bellezza di questi luoghi al di fuori dei confini molisani? Per promuovere questi centri storici basterebbe già diffondere queste immagini attraverso un tour operator accompagnate da un invito a venire a degustare, a visitare questo territorio sarebbe già qualcosa. Se aggiungiamo la bellezza e la possibilità di usufruire dai nostri borghi dell'albergo diffuso organizzati in un pacchetto di promozione gestita e promosso da pubblico e privato. Basta un esempio. Quanto fatto diversi anni fa con la provincia di Isernia portammo la mostra del paleolitico a Buenos Aires che allora aveva una bella stagione di sviluppo e a Toronto in Canada. Di grande interesse per i molisani e di loro conterranei invitati a venire a visitare il Molise, Isernia e il suo internet.